Il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di Sovol è di 8.8 su 10. Risulta essere il migliore di questa selezione. Questo prodotto è caratterizzato da un'elevata qualità. È un articolo capace di accontentare un po' tutte le tipologie di utenti. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di Flashforge è di 8.2 voti su 10. Risulta essere il più esclusivo di questa selezione. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Adesione. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. BQ. Con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8.4 su 10. Risulta al momento essere il più scontato di questa selezione. I suoi pregi sono. Qualità di stampa. Adesione. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video. Questo prodotto realizzato da Anycubic ha conquistato una votazione di 8.6 su 10 punti totali. È il più desiderato. I punti di forza sono. Facile da montare. Adesione. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Qualità di stampa. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato.